La crisi torna a mordere, raddoppiano i lavoratori lecchesi in cassa integrazione. A tracciare il quadro economico poco rassicurante sono i dati dell'analisi della Will dell'Ario sull'impiego degli ammortizzatori sociali nei primi due mesi del 2019. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aziende lecchesi hanno più che raddoppiato la richiesta di ore di cassa. Scomponendo i dati ci si può fare un'idea delle ragioni alla base di questa situazione. Le ore di cassa integrazione ordinaria, ovvero quella richiesta per far fronte a cali negli ordinativi, sono cresciute del 267% a fronte di una riduzione media sia a livello regionale sia a livello nazionale. Nelle chiese calano invece le ore di cassa straordinarie, quella necessaria a riorganizzazione aziendale oppure a cessazione di attività. Il rilevante è l'apporto in questo quadro della cassa inderoga, l'ammortizzatore abolito e derogato solo per ore relative agli anni precedenti. A spiegare ancora meglio la contrazione in atto è l'analisi per settore. In provincia di Recco, a gennaio e febbraio, le aziende del comparto metalmeccanico hanno chiesto 144.000 ore di ammortizzatori sociali, con un aumento del 534% rispetto allo stesso periodo del 2018. A soffrire di più è dunque l'ossatura del sistema economico provinciale. Il quadro tracciato non è esente da ricadute occupazionali, prova ne è che oggi sono 654 i lavoratori lecchesi in cassa integrazione, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il nostro report, dichiara Salvatore Monteduro, segretario generale della WID dell'Ario, conferma le incertezze e le preoccupazioni su una ripresa economica che è instabile e che vive dalle dinamiche e fluttuazioni dei mercati globali, oltre a una domanda interna che non decolla. Un'instabilità che si evince anche dall'andamento delle esportazioni. L'anno che si è chiuso ha mostrato a Recco una domanda estera in crescita, ma con un incremento inferiore rispetto a quello registrato fra il 2017 e il 2016. Questi dati, conclude Monteduro, hanno influito anche sui lavoratori. A Recco ci sono 2.559 occupati in meno rispetto al 2017. Per attenuare l'impatto negativo dei mercati globali bisogna agire sulla domanda interna. A tutt'oggi però non si vede un'azione in questo senso da parte del governo.